benvenuti ad un nuovo episodio un nuovo meraviglioso episodio del GP Show l'Italia è un paese di benestanti poveri tema importante molto interessante secondo me che trattiamo in questo appuntamento che teniamo più o meno sempre all'ora di pranzo più o meno sempre quando il team di Piano Finanziario digerisce perché mangia in fretta e furia per preparare questa diretta e poi ci dividiamo in vari ruoli ma l'obiettivo è trovare il modo di riuscire a fare quattro chiacchiere con chi segue i nostri contenuti proporvi dei temi che secondo noi sono importanti e poi se rimane tempo in vista dell'appuntamento alle 14 con i tutor di rispondere a qualche domanda ma oggi darò priorità alle domande che ci avete inviato o anzi no abbiamo delle domande dagli abbonati? no? benissimo quindi darò priorità alle domande che ci porrete in diretta e dopo che abbiamo approfondito però il tema di oggi vediamo comunicazioni di servizi allora sì importantissimo oggi abbiamo ho registrato non serve il plurale ma è statis un nuovo video del canale che ricomincerà con la programmazione normale domani come citavo in qualche video precedente mi sono preso un attimo una pausa perché abbiamo avuto qualche un paio di progettini da portare avanti questo periodo in piano finanziario e dopo aver raggiunto i 100.000 ho detto ce l'ho fatta posso rallentare due settimane adesso mi sento l'ansia perché ovviamente il prossimo obiettivo sono i 200.000 e quindi ho ricominciato oggi e il video uscirà domani quindi di cosa parliamo oggi? allora ho trovato un paio di contenuti cioè un articolo molto interessante che voglio condividere e che permette di capire un tema a mio parere molto importante relativamente allo stato di salute della nostra amata Italia amata Italia per me che continuo ancora a desiderare di viverci però a volte leggiamo dei commenti sotto al canale che sono cioè sotto ai video che sono non sono così coerenti con il desiderio di continuare ad abitare in Italia quindi io dico io la amo non mi piace tutto quello che vedo però cerco di avere un atteggiamento positivo mi rendo conto che non sono probabilmente non faccio parte della maggioranza ma a me interessa portare questi contenuti quindi regia mostriamo l'articolo che ho trovato si chiama poveri benestanti dichiarazione dei redditi e stile di vita degli italiani questo ci permette di capire meglio alcuni temi che io tratto quotidianamente quando facciamo i corsi qui in sede che però a volte non trovano una spiegazione se non c'è una conferma numerica capirai meglio tra poco in particolare mi riferisco in due parole alla coerenza tra le dichiarazioni medie degli italiani e i redditi e scusami e le spese degli italiani le dichiarazioni rese dagli italiani nel 2022 restituiscono una fotografia di un paese in difficoltà nel quale la maggior parte dell'IRPEF cioè le imposte pagate sui redditi il 62,52% è a carico dei pochi con redditi sopra i 35.000 euro allora 35.000 euro lordi netti quanto sono faccio un calcolo a spanne potrebbero essere 1.400 1.500 a spanne quindi ci stiamo parlando di chi è sopra 35.000 euro che di fatto sta diventando la soglia dei benestanti e parliamo di 1.600 euro netti circa forse qualcosina di più potrebbe essere sono già delle soglie che se le confronti ai paesi io sono stato in Danimarca e Norvegia quest'estate cioè non sono paragonabili questi numeri ok però per l'Italia per l'Italia a 35.000 euro passiamo nella categoria benestanti scrivi cosa ne pensi nei commenti poi dopo leggiamo i commenti bene quindi la quota parte dell'IRPEF in Italia il 62% è a carico di quei pochi fortunati benestanti che guadagnano oltre 35.000 euro lordi all'anno ok e sono il 13 cioè il 14% della popolazione minuto di silenzio no non abbiamo tempo facciamo due secondi di silenzio eppure basterebbe guardare ai consumi e agli stili di vita per capire che i conti non tornano davvero in che senso bene ed è questa la definizione di Italia un paese di poveri benestanti dal punto di vista delle dichiarazioni dei redditi siamo tutti poverissimi però dal punto di vista dei consumi c'è forse qualcosa che non viene considerato in termini di redditi ovviamente ridiamo per non piangere è un paese dove il 23% dei contribuenti dichiara redditi da negativi costante perdita io non so capisco una società che dichiara redditi negativi una persona non riesco a capirlo a 7500 lordi l'anno e paga un'imposta media di 16 euro all'anno grazie al TIR il trattamento integrativo dei redditi insomma il bonus Renzi maggiorato quindi giusto per dire un contribuente su 4 per capirsi dichiara o un reddito negativo o pari a 0 ok il successivo 18% degli italiani dichiara tra 7500 euro e 15.000 all'anno e paga un IRPEF di 250 euro grazie sempre alle egevolazioni ex bonus Renzi quindi il 42% dei cittadini un cittadino su due quasi considerando anche le persone a carico paga solo l'1,73% dell'IRPEF accumulata a livello nazionale che ammonta circa 175 miliardi quindi qua stiamo iniziando a capire e io feci un video chiamato non è un paese per dipendenti ce lo segniamo Michi che lo mettiamo dopo in descrizione di questo video in cui spiegavo che ahimè il dipendente oggi è veramente massacrato di tasse perché qui abbiamo la conferma numerica perché l'IRPEF ha una distribuzione che è veramente sproporzionata cioè una maggioranza la maggioranza di gente non paga niente l'IRPEF e oltre 35 mila euro si paga abbiamo visto quasi 60 la quota parte dell'IRPEF è pagata dal 13% degli italiani ok più o meno questi sono i numeri dopo risponderò alle domande scrivimi nei commenti le tue riflessioni a questi dati che a me fanno salire un po' di mi rendono difficile la digestione visto che siamo dopo pranzo bene c'è poi il successivo 13,5% che dichiara redditi tra i 15 e 20 mila euro e paga il 5,65% dell'IRPEF totale con un'imposta media di 1.271 euro quindi siamo al 56 del per cento della popolazione che in totale paga a malapena l'8% dell'IRPEF nazionale ok la successiva fascia quella da 20.000 a 29.000 comprende 9 milioni di contribuenti il 22% del totale che considerando il rapporto tra dichiaranti e abitanti riguarda circa perché ci sono persone a carico eccetera 13 milioni di persone e queste persone pagano 3.500 euro di tasse contribuendo a quindi 32 miliardi di IRPEF sui 170 circa insomma tanti dati un paese del G8 in cui per il 60% degli abitanti si vive con meno di 1000 lordi al mese questi sono i dati reddituali dell'Italia strano no? molto strano giusto per comprendere la gravità della situazione occorre specificare che la spesa sanitaria nazionale è stata pari a circa 127 miliardi per un pro capite di 2100 euro quindi per questi primi tre scaglioni di reddito la differenza tra IRPEF versata e il solo costo della sanità ammonta 57 814 miliardi che sono a carico di altri contribuenti vuol dire che il 60% degli italiani vive a carico degli altri contribuenti ok? questa è una diretta particolare anche perché sono raffreddato e a volte mi dovrete sentire tossire scusate bravissima la regia di Elena che non ha fatto il cambio immagine vedendo che andava in difficoltà ed è rimasta sul 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 testo bene ma poi ci sono altri dati che descrivono un'Italia composta da tutt'altro che poveri ad esempio quella della relazione del libro blu dell'agenzia delle dogane dei monopoli che stima che la spesa per il gioco d'azzardo nel 2022 sia di oltre 136 miliardi di euro ed è un record di tutti i tempi per le italiche giocate mamma mia che poesia a cui occorre raggiungere altri 20 miliardi per il gioco irregolare bla 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 in altre parole prima abbiamo visto i redditi un 60% della popolazione ha dichiarazioni dei redditi così basse da dire che stanno vivendo a spalle del 40% con le dichiarazioni più alte proprio non pagano imposte anzi gravano ok cioè le imposte che pagano non sono comunque sufficienti se prendiamo le spese sanitarie a coprire quelle che sono le spese medie che ognuno di noi cioè la quota di spesa media sanitaria per persona ma i nodi vengono al pettine quando si passa ai tenori di vita alle spese degli italiani ci si accorge che c'è qualcosa che non torna ok poi dopo citeremo qualche minuto per fare qualche considerazione politica quindi su 59 milioni di cittadini di cittadini residenti significa che i 1886 euro pro capiti spesi in gioco d'azzardo per il 2021 e oltre 2300 euro a testa per il 2022 considerando che io spendo zero di gioco d'azzardo c'è qualcuno che spende anche la mia quota quindi è una cifra abnorme assolutamente considerando anche che tutti i clienti di piano finanziario spendono zero vuol dire che c'è gente che spende davvero 10 20 30 mila euro fammi sapere se conosci nei commenti qualcuno che spende cifre simili o se tu spendi cifre simili bene è una cifra abnorme che supera nel 2022 il costo dell'intera sanità pubblica cioè vuol dire che c'è gente che sta pagando in gioco d'azzardo più di quanto contribuisce alle tasse per quanto riguarda la spesa sanitaria incredibile ma che paese è questo ma quanto si annoiano gli olandesi o i tedeschi ad avere le finanze in ordine noi invece possiamo fare questi bei commenti oppure per citare un altro dato di massa basta guardare al possesso di smartphone e collegamenti internet da mobile su almeno 60 milioni di abitanti in Italia a fine 2022 sono 78,2 milioni i dispositivi mobili scusa ho sbagliato a leggere 60 milioni di abitanti 78 i dispositivi mobili pari a un 132% della popolazione nazionale cioè anche i miei figli che non hanno l'età per avere un telefono a livello di media nazionale hanno più di un telefono a testa quindi vuol dire che c'è qualcuno che ha tre telefoni non lo so tu quanti telefoni hai io ho questo e mi avanza inoltre il 97% degli italiani possiede almeno uno smartphone così che escludendo i neonati bimbi e persone particolarmente anziane la quasi totalità della popolazione ha almeno un telefonino vabbè insomma non tornano i dati non tornano neanche i dati degli acquisti di computer e laptop cioè per gente che ha redditi negativi o pari a zero che abbiamo visto precedentemente quotano una persona su quattro dichiara redditi negativi o pari a zero ok come fanno ad avere un telefono e mezza testa bene ma andiamo avanti possesso di animali da compagnia di cui siamo primi in Europa dopo gli ungheresi la chirurgia estetica e così via insomma ci sono altri dati relativi al consumo che hanno le persone che ci fanno capire che non tornano cioè non tornano i dati di spesa con i dati dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi i dati alla mano appare più che giustificato definire quella italiana come una popolazione di poveri benestanti siamo poveri ma stiamo poi anche bene e come possiamo stare così bene se siamo poveri non ha un gran senso giusto? stiamo capendo che c'è qualcosa che non torna a livello di dichiarazioni dei redditi e arriviamo alle conclusioni di questo articolo che dice appunto vediamo che prima considerazione vediamo se c'è qualcosa interessante qui vabbè vi lasciamo l'articolo in descrizione se volete approfondire non lo leggo tutto perché voglio rispondere ai commenti e alle dichiarazioni di disgusto che spero ci saranno online visti i consumi spesso superflui siamo in presenza di un'evasione di massa punto ok altro che evasione dei grandi evasori ok no è l'evasione del piccolo in Italia il problema che ovviamente nella maggior parte dei casi l'italiano scarica i problemi dicendo che il nostro debito pubblico è un problema dell'Europa dei poteri forti delle istituzioni europee no è che siamo un popolo di tendenzialmente di evasori in buona parte ok come dire questo è l'italiano medio questi sono i dati medi ok secondo osservazione sarà complicato finanziare nel prossimo anni nei prossimi anni il nostro generoso welfare perché tutto questo si esposa con un welfare una spesa pubblica incredibile in Italia la spesa pubblica per le pensioni si mangia il 16% della spesa totale dello Stato peggio di noi solo la Grecia che ha il 18% la media europea è tipo l'8-9 quindi abbiamo un welfare super ricco in via di come dire super ricco per ragioni storiche perché abbiamo straspeso e c'è mezzo milione di persone in pensione da meno dai 40 anni di età circa ok oggi non è più sostenibile si sta contraendo questo welfare e non sta al pari con le dichiarazioni dei redditi questo è il messaggio purtroppo molto triste ma ahimè questa è la situazione quindi ci sono redditi bassi spese alte in sostenibilità delle finanze dello Stato tra l'altro ne parleremo nel video di domani questo sarà faremo un grande un grande approfondimento perché ti anticipo che siamo messi peggio della Grecia dal punto di vista della percezione di rischio relativa alla sicurezza alla solidità delle finanze dello Stato quindi vabbè chiudiamo con il presidente del centro studi e ricerche itinerari previdenziali Alberto Brambilla che ha scritto questo articolo chiude con una ventata di ottimismo e dice altro che portare le pensioni a 1000 euro falliremmo dopo pochi anni cioè con delle finanze così dove le entrate ci sono ma sono non in linea con i consumi quindi c'è un'evasione che si stima sia tra il 10 e il 15% non c'è totale incoerenza con le spese delle persone però poi non divengano al pettine ed è normale che in questo contesto lo spread sia a 200 punti base lo commenteremo nel video di domani non perdertelo quindi prima di darmi un secondo per dare un altro colpo di tosse perché sono raffreddato prepariamo le domande e poi commentiamo in diretta grazie ottimo ottima sincronizzazione con Elena che fa la regia in sostituzione a Simone allora bene vediamo dopo avremo anche qualche domanda in diretta a cui rispondere no scusami domande registrate però voglio dare priorità alle domande in diretta qualche commento dai fatemeli leggere e potete dare qualche informazione in più sulle figure ah allora domanda di Massimo non c'entro con l'argomento di oggi però mi interessa il tema quindi ci tengo a rispondere subito allora si chiamano tutor non tutorial i tutorial sono quelli su youtube per capire come come fare la torta di mele i tutor sono delle figure strategiche che in ambito di piano finanziario si occupano dello sviluppo del cliente quindi sono figure all'interno dell'area commerciale che si occupano di prendere un cliente che ha un problema aiutarlo ad identificare il cliente e coinvolgerlo in un percorso di crescita ok quindi è una figura commerciale che però in salsa piano finanziario ha una forte componente di sviluppo del cliente abbiamo dei processi molto solidi un percorso formativo strastrutturato e infatti ogni tre mesi entrano due tutor ormai da da un annetto circa quindi stiamo crescendo vogliamo aumentare l'organico perché fondamentalmente abbiamo più contatti di quelli che riusciamo a processare e io mi lamento col dipartimento marketing perché siamo troppo bravi a fare il marketing e la rete invece di gestione dei tutor cioè l'area commerciale non riesce a processare tutti questi contatti vogliamo crescere se ti interessa ti candidi piano finanziario.it slash lavoro direi oppure oppure trovi il link in descrizione ok da oggi ecco un commento che mi ha scritto non mi ricordo chi su Instagram riguardo le dichiarazioni dei redditi medie allora intanto abbiamo visto che in Italia la media non esiste cioè quando hai una distribuzione così come abbiamo visto in questo articolo il concetto di dichiarazione media non ha alcun senso cioè abbiamo un italiano su quattro che dichiara redditi negativi o pari a zero il concetto di media si applica quando la distribuzione dei dati non è cioè ha senso quando la distribuzione dei dati non è esagerata perché è l'esempio del pollo ok se io ho due polli e tu zero polli abbiamo un po' la testa di media ma non è la stessa cosa perché io mangio tu no quindi il concetto deve essere si parlerebbe di mediana quando c'è una è più corretto ragionare di mediana quando si c'è una distribuzione di redditi così ampia perché abbiamo appunto una fetta di popolazione mostruosamente elevata che dichiara redditi zero ma come fa a essere zero ok ok no no è chiaro com'è è tutto nero fondamentalmente e una microscopia e abbiamo visto prima quant'era il numero abbiamo visto quindi che il 62% dell'IRPEF è pagata da chi guadagna oltre 35.000 euro che è il 13% degli italiani ok quindi la domanda era oggi ci si può definire benestanti ma è ovvio che ci si può definire benestanti dipende dal reddito e oggi in Italia con mille secondo i dati delle dichiarazioni media tu sei già benestante con 1600 euro ok sono dati falsati che non hanno senso perché là fuori non vedi automobili cioè ecco la ragione per cui ho voluto portare questo contenuto è perché un ragionamento che facevo fare a persone che fanno giornate formative qui in sede è se il reddito medio è questo 1500 euro netti ma tu vedi là fuori auto di valore paragonabile al reddito medio delle persone io no ne vedo con un valore più alto sicuramente c'è molta gente che compra automobili a debito e quindi non c'è un legame con il reddito annuale però e magari non ha risparmi è una situazione finanziaria devastata ci capitano quotidianamente questi casi però è indiscutibile che c'è anche molta gente che vive di nero e quindi non si vedono questi redditi nella dichiarazione dei redditi ma si vedono nei consumi e l'abbiamo visto nell'articolo cosa ne pensi dell'euro digitale dei suoi possibili sviluppi e se e come può diventare un nuovo strumento per la politica monetaria della banca centrale allora bella domanda Cristian permesso che non ho una risposta ne parlammo postiamolo in descrizione lo mettiamo tra i primi commenti di questo video appena chiudiamo la diretta il video delle CBDC che ho pubblicato più o meno un anno fa ed è un tema che è molto deve essere deve essere trattato con la giusta importanza ha un'importanza non trascurabile mi spiego è una tecnologia potentissima che può portare ad un tracciamento e ad un monitoraggio delle persone potenzialmente esagerato e quindi perché la tecnologia traccia qualunque cosa e quindi di fatto io posso anche un esempio che facevo nel video era che certi con le CBDC potenzialmente uno potrebbe dire che l'euro ha scadenza un euro a scadenza cioè se non lo consumi entro il fine dell'anno scade allora ovviamente la tecnologia rende possibili delle politiche economiche che potenzialmente sono molto impattanti di conseguenza dobbiamo valutare come viene applicata questa tecnologia a delle decisioni politiche ok in salsa cinese a me preoccuperebbe molto in salsa americana abbastanza in salsa europea abbiamo abbiamo un'attenzione alla privacy alla a molte tematiche ad esempio la protezione dei dati che c'è in Europa il GDPR non c'è negli Stati Uniti ok quindi premesso che nessuno può sapere come verrà implementato l'euro digitale ad oggi non ci sono abbastanza informazioni però per come viene per come vengono gestite altre cose a livello europeo mi viene da dire che è l'area geografica in cui mi preoccupa meno l'applicazione di una valuta digitale mi preoccuperebbe molto di più mi preoccupa molto di più in Cina mi preoccuperebbe in modo non uguale ovviamente ma comunque di più che non in Europa se fossi cittadino americano però appena ci saranno maggiori informazioni magari faremo un video di approfondimento ok il dipendente oddio intanto l'IRPF gliela paga l'impresa diciamo che il costo del lavoro è folle l'IRPF gliela paga l'impresa in che senso cioè gliela paga l'impresa ma che discorso è cioè nel senso che il dipendente riceve il netto ok si gliela paga l'impresa perché è sostituto di imposta l'impresa ma le tasse le paga lui ragazzi le tasse l'IRPF è una imposta sui redditi personali cosa vuol dire la paga l'impresa la paga l'impresa solo perché è sostituto di imposta paga per te le tasse l'impresa ma le tasse sono due no ragazzi cioè se abbiamo dei dubbi su questo tema andate da un caffè o chiedetelo alle risorse umane ok basterebbe poter far scommettere in quale anno l'Italia dichiarerà default io non penso dichiarerà mai default penso che invece scenari di governi tecnici e o commissariamenti siano molto più probabili non si può far fallire l'Italia è troppo grossa cioè vi rendete conto che 2.800 miliardi di debito pubblico 2.8 trilioni trilioni in Italia com'è che si dice trilioni in italiano perché io gli dico sempre mi costano sotto i video non esiste il trilione in italiano se non sono miliardi sarà no biliardi sono un'altra cosa non lo so scrivimi nei commenti come si dice trilioni in italiano non si può far fallire l'Italia lo sponsor di oggi è l'agenzia dell'entrata e la guardia di finanza grazie Dante bellissimo commento fa molto i commenti divertenti avranno sempre uno spazio di primordine su questo questo canale l'80% dei contribuenti dichiara meno di 25.000 euro ho letto che rispetto agli anni 90 ha raddoppiato il patrimonio derivante da eredità e diminuito quello da risparmio di lavoro assolutamente questo è un trend che noi vediamo quotidianamente perché da quando abbiamo lanciato la società di consulenza potrei dire che un progetto su due che facciamo relativamente allo sviluppo delle finanze dei nostri clienti è quello di trasformare il patrimonio in una rendita e ne parleremo nella prossima diretta perché abbiamo visto che ci sono varie domande su come far a generarsi una rendita ok quindi il trend dei prossimi 20 anni è questo è persone che hanno redditi bassi che vogliono vivere della rendita del patrimonio generato dalla generazione precedente della serie un paese che guarda avanti però io non vedo nessuno che si lamenta Andrea c'è un po' di tono polemico in tutto ciò lo so più che altro manderebbe in crisi molte banche se diventa un sostituto dei sistemi di pagamento digitali attuali questo è un altro tema che avevo menzionato parliamo delle CBDC è un altro tema che avevo menzionato nel video sulle valute digitali su possibili scenari sicuramente ci sarebbe un impatto sul sistema bancario lo rimettiamo per chi se lo fosse perso lo ripeto lo rimettiamo lo mettiamo in descrizione di questo video così te lo puoi andare a recuperare ok l'esperienza canadese dovrebbe essere un esempio di Fabio spiegaci perché perché non conosco bene a cosa fa riferimento idea per un video dedicato ma cosa si può tagliare di spesa pubblica in Italia realisticamente il welfare la spesa improduttiva ci serve un ponte sullo stretto per curiosità che dovrebbe costare fammi controllare in diretta quanto è il budget del ponte sullo stretto ok il punto sapete cosa si dovrebbe tagliare le tasse e le imprese ecco questo così le imprese assumerebbero altre altre persone costo vediamo il costo 15 miliardi di euro questo è il budget se prendiamo il come si chiama il mose cioè se poi prendiamo nelle opere pubbliche il margine di sicurezza deve essere per 3 cioè nel senso che il budget è 15 miliardi di euro poi a quando sarà finito di costruire il conto sarà di 50 ok cioè più o meno un chilometro di alta velocità in Italia è costato tre volte quanto è costato in Francia ok quindi cioè rendiamoci conto che poi la spesa pubblica in salsa italiana è inefficiente improduttiva e un delirio potremmo riassumerlo così quindi cosa tagliare è bisogna rendere sostenibili le finanze e un paese in cui la spesa pubblica va al 18% più o meno questi sono i dati di oggi il 16% aspetta voglio dare il dato preciso direi sia tra il 16 e il 18 vediamo se lo trovo in diretta vediamo no ho sbagliato per pensioni il 16% del PIL ok se ne va in il 16% del PIL se ne va in spesa per pensioni tanto poco non lo so vediamo quanto va in sanità per curiosità la spesa sanitaria pubblica nel nostro paese si attesta al 6,8% del PIL aspetta scusami prima controllavamo si del PIL non della spesa pubblica è tutto rapportato al prodotto interno lordo quindi la spesa per le pensioni è circa il 16% del PIL la spesa per la salute è il 6,8% del PIL e non lo so un altro servizio di utilità pubblica la scuola ok quindi per educazione com'è che sarà no vediamo scuola o le università 4,1% allora la spesa dello Stato è teoricamente dovrebbe essere un investimento allora è ovvio che se abbiamo se la scuola è un investimento le pensioni non lo sono soprattutto in un contesto in cui abbiamo gente che vive di sistema retributivo che magari sono le generazioni che hanno redditi pro capiti molto più alto delle generazioni successive allora se voglio fare un ragionamento di da cittadino italiano bisogna andare a correggere le pensioni a chi dovrebbe esserci una relazione tra le pensioni e il patrimonio perché se c'è debito pubblico già pensiamoci cos'è il debito pubblico il debito pubblico si crea quando qualcuno spende di più di quanto incassa per pensioni e il debito pubblico non è stato generato oggi è stato generato negli anni scorsi quindi ci sono generazioni al di là del partito politico che hanno ricevuto più di quanto hanno pagato bisogna riequilibrare queste cose in Italia c'è un grosso problema di conflitto intergenerazionale a mio parere e la prima cosa che dovrebbe fare un governo con coraggio coraggioso è sistemare queste 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 anomalie intergenerazionali che fanno sì che i genitori vivano a scapito i figli vivano a scapito dei genitori non a scapito a carico dei genitori ok in un mondo ideale ogni generazione dovrebbe farcela con le proprie gambe ok riflessioni nei commenti mi piacerebbe sapere cosa ne pensate abbiamo ancora dieci minuti ci siamo lasciati alle spalle gli Evaristo Borghi e gli Ernesto Bagnaide ritorna la lira o c'è il rischio che ritorni la manfrina e ritornino gli sparoacchi diciamo che la soluzione più semplice per molti è la cosa più facilmente comprensibile cioè ritornare alla lira perché l'italiano medio dice quando c'era la lira stavo bene oggi c'è l'euro sto male non capisce che ci sono stati 20 erotti anni di politica in mezzo e ci sono paesi con l'euro che stanno meglio di noi ci sono paesi con l'euro guarda il video di domani che hanno le finanze in ordine nonostante l'euro che la valuta è un'unità di misura ovviamente ci pone dei vincoli dal punto di vista dell'emissione di nuova valuta ma non possiamo lamentarci perché la BCE negli ultimi anni ha comprato tonnellate di debito pubblico italiano e al contempo non possiamo non considerare i vantaggi di essere all'interno di una comunità europea andatelo a chiedere agli inglesi come stanno adesso che sono fuori e com'è la loro economia adesso che sono fuori dal dalla comunità europea quindi la soluzione più semplice quello che our marks chiamerebbe ragionare a livello 1 cioè proprio non so niente è stavo bene con la lira sto male con l'euro quindi il problema è la valuta no non è così cioè avremmo uno spread perché lo spread ci sarebbe comunque a 600 se non ci fosse l'euro se non ci fosse scusatemi la forza della bce dietro che ci può salvare quando lo spread andrà fuori controllo e attiverà sistemi come lo scudo antispread quindi prima o poi torneranno fuori e la ragione per cui io parlo di questi temi è per far capire che non possiamo limitarci a un livello 1 di ragionamento ma dobbiamo andare un po' sotto capire gli effettivi principi di causa effetto che però mancano la maggior parte delle persone perché mancano conoscenze di base di natura economica e finanziaria trillion uguale un bilione o mille miliardi grazie Walter ma parlare di combattere l'evasione è un problema che nessuno sa risolvere a meno che si saltano tutti i diritti ma in che senso si saltano tutti i diritti è che la mia società dal momento che lavoro online è abituata a ricevere pagamenti in formato digitali non circolano non circola contante nella mia società tutti i pagamenti sono digitali per una realtà come la mia se lo volessi e non lo voglio cioè volessi evadere è anche molto difficile perché è tutto digitale è tutto tracciato fin tanto che ci sarà ci sono vari studi cioè vari non so quanti studi che confermano la linearità tra l'utilizzo del contante e il nero cioè nel senso poi uno può crederci o non crederci ma gli studi ci sono le prove ci sono nei paesi del nord Europa dove io ho pagato un euro e mezzo di caffè con la carta di credito il livello di evasione tra i più bassi a livello mondo vediamo il nero si porta dietro anche basse pensioni quindi aumentiamo quindi aumentiamo le minime non ho capito il nesso il problema italiano sono il numero di persone che lavorano 64% di persone occupate nella fascia 20-64 è bassissimo è penultimo in Europa di questo 64% vorrei vedere quanti sono efficienti assolutamente Jan o Jan non lo so assolutamente questo poi è un tema demografico c'è un grosso problema demografico yes Fabio ti sarà sfuggito il Canada congela i conti dei leader Novax ok ah sì per il tema dell'USBDC ok ho visto ho capito cosa fa riferimento non conosco nei dettagli la materia però è uno dei temi che era emerso appunto quando si parlava di CBDC assolutamente ci torneremo appena magari ci saranno notizie più chiare su questo tema imprenditorialità italiana è una giungla che approfitta delle vite umane tagliando le tasse del lavoro non gli fa aumentare assunzioni anzi gli fa cercare altre maniere per girare dipendenti Neda io non so con chi hai avuto a che fare se hai avuto a che fare con imprenditori approfittare delle vite umane scusa Michela voi vi sentite approfittate no però non vi sentono urlate più forte ok no e allora io non so o sono un imprenditore illuminato io non penso di esserlo oppure hai sbagliato imprenditore a cui rivolgerti vai da un altro cambia lavoro fai crescere le tue competenze creati delle competenze professionali che il mercato cerca e se non sei soddisfatto del tuo datore di lavoro che ti sfrutta ne trovi un altro sarebbe curioso sapere quanti paesi in Europa hanno sul gruppone le pensioni con il sistema retributivo anch'io vorrei saperlo non penso tante Enrico avessimo sempre avuto il sistema contribuito sarebbe più equo e sostenibile tutt'oggi assolutamente infatti è la cosa che ho citato nell'ultima diretta che abbiamo fatto che ormai la nostra come dire il nostro mondo contributivo il mio mondo contributivo è fatto di contributivo scusatemi riformulo la mia vita previdenziale è fatta di contributivo io vado in pensione con una quota con un reddito che dipende dai contributi versati non dal mio stipendio di conseguenza che ovviamente è il mio stipendio che genera i contributi però prima c'era una relazione con il sistema retributivo tra il tuo ultimo reddito e la pensione e più o meno era uno a uno i miei genitori non si sono dovuti occupare della pensione proprio perché c'era questa relazione oggi è cambiato tutto oggi ci sono i contributi bene è un sistema eco sì sì però sul gruppone abbiamo tutti i retributivi che sono la maggioranza perché la maggioranza se guardate com'è distribuita la popolazione degli italiani ve lo dico subito per quanti lavoratori ci sono per ogni pensionato cerchiamolo insieme ok in ita oggi in italia rapporto di 1,4 lavori lavoratori per un pensionato ok fra dieci anni la prospettiva è che si abbassi a 1,3 capite perché ai messi devono toccare le pensioni perché è insostenibile cioè o ci mettiamo veramente a fare questo è un tema di natalità cioè o è giustamente il governo sta lavorando sulla natalità alleluia l'hanno capito cioè è impossibile che le finanze dello stato reggano con questo welfare e questa natalità allora o sì il problema è che la natalità cioè si corregge in 20 anni perché prima che un bambino nato oggi inizia a contribuire e versare i contributi passano 25 anni se fa anche l'università quindi cioè rendiamoci conto che c'è un problema di sostenibilità che non è non è legato all'euro alla valuta come dicevamo prima è legato a politiche economiche sociali completamente cannate negli ultimi 30 anni Ezechiele le anomalie sono che le pensioni sono anche le pensioni stratosferiche dei politicanti manager eccetera che guadagnano fuori misura aspetta allora politicanti è un tema manager è un altro cioè non mischiamo il sacro col profano e il sacro è il manager che gestisce un'impresa è a rischio perché se non porta a casa i risultati è a casa il giorno dopo quindi non mischiamo con che vive un contesto meritocratico perché le imprese private hanno regole meritocratiche di solito con il pubblico ok il pubblico è un altro mondo quindi conosco persone tra i nostri clienti che prendono 10.000 euro di pensione sì ma hanno versato probabilmente una milionata di contributi ok quindi cioè non c'è niente di sbagliato nell'avere una pensione alta perché hai avuto un reddito stratosferico parlo di amministratori di società con cliente che è entrato questa settimana con una società che farà 500-600 milioni di fatturato lui è il CEO è ovvio che prenda dei milioni all'anno di reddito pagherà contributi in modo importante e se non prende una pensione di 10.000 euro al mese non so chi deve prendere non rischiamo il privato col pubblico sul pubblico tutto verissimo le pensioni sono finite basta risparmiare ed investire a lungo termine possibilmente parlando con un financial advisor ok non è che sono finite allora e con questo chiudiamo non è che sono finite ragazzi se fossero finite io non posso accettare che ci sia questa e penso che questo sia veramente uno dei problemi di questo paese ci sia questa tolleranza a far sì che noi accettiamo per finito o per di valore pari a zero una cosa su cui va a finire il 30% del nostro reddito in contributi più o meno va al 30% del nostro reddito come fate voi accettare che il 30% del vostro reddito sia azzerato non sono tasse cioè l'IMS sono contributi diversi no scusatemi 30% totale adesso bisogna capire non so esattamente per un dipendente quanto sia la quota di IRPEF e quanto sia la quota di contributi previdenziali ci vorrebbe un commercialista ok però potrebbe essere il 20% se ne va in contributi su un totale di 30-35% di fiscalità che c'è sul sul tuo reddito sul tuo reddito lordo non puoi non avere il controllo non puoi accettare che vada a zero cioè dove è la gente che pacificamente senza distruggere delle vetrine ma protesta perché in Italia non protesta nessuno cioè soprattutto con redditi così bassi bisogna tornare a fare politica in questo paese se vogliamo risolevarlo e vuol dire parlare di questi temi far sì che la politica si accorga che bisogna trattare questi temi altrimenti non cambierà mai si parlerà del ponte sullo stretto ok si parlerà di mancette elettorali e con questo vado in riunione con i tutor sono già in ritardo di dieci minuti se vuoi diventare un tutor e unirti alle nostre riunioni delle due e un quarto scrivici contattaci pianofinanziaro.it slash informazioni no scusami non informazioni come sì pianofinanziaro.it slash lavoro grazie Elena ci vediamo alla prossima diretta non so quando mi raccomando domani riparte la programmazione del canale dopo una pausa che mi sono dovuto prendere perché non ci stavo più dietro con tutte le attività di piano finanziario scf eccetera ma ricominciamo domani con un nuovo video sempre sul tema Italia debito pubblico e Grecia capirai tutto domani ciao buon pomeriggio